Solidarietà al Teatro Reim di Firenze, protagonista Riccardo Azzurri, il servizio di Lorenzo Caffè. Cambia il mondo, gira il vento, io non cambio mai. Il mio cuore è sempre in ansia, sempre in mezzo ai guai. Io sempre io, il nuovo CD, il CD del ritorno di Riccardo Azzurri, un lavoro di qualità per l'ex leader degli Extra, già protagonista in passato a Sanremo e a lungo compagno di viaggio, di tournée, musicista di fiducia di Claudio Baglioni. In mezzo al verde io ho ritrovato pace e tranquillità in mezzo al verde e il mio nuovo CD è nato proprio lì. Successo al Teatro Reim di Firenze con i ragazzi di Sipario, una serata in cui i proventi sono stati devoluti proprio all'aiuto a questa attivissima associazione di giovani diversamente abili. Col brano di Azzurri, Pace sarà, il canto autore fiorentino ed i ragazzi di Sipario erano giunti alle soglie dell'ultimo Sanremo di Morandi. Un futuro anche musicale per questi bravissimi ragazzi. La serata fa parte di un progetto per uno spettacolo musicale che è in fase di realizzazione. Si avvarrà della collaborazione dell'attore fiorentino Sergio Forconi. Hanno partecipato alla serata del Teatro Reim, autorità del Comune di Firenze e di Pelago.